Che vuoi? Francesco Monte torna a parlare dello scandalo droga, ecco dove e quando Nuova intervista in programma per Francesco Monte, i siti di Gossip fanno sapere che presto il tronista sarà ospite del Maurizio Costanzo Show. . Dopo il faccia a faccia con Silvia Toffanina Verissimo, cancelletto Francesco Monte ha deciso di parlare unaltra volta dellargomento che da un mese a questa parte sta monopolizzando i media, il canna gate dellisola dei famosi. . Se la sua antagonista Eva Enger ha rilasciato molte interviste su questo scottante tema, lex tronista si è raccontato poche volte ma, stando ai cancelletto gossip che circolano in rete in queste ore, pare abbia scelto di farlo prossimamente nel salotto del cancelletto Maurizio Costanzo Show. . Francesco Monte di nuovo ospite di Maurizio Costanzo il 15 marzo. . Il salotto del Maurizio Costanzo Show sembra piacere molto a Francesco Monte, dopo esserci andato qualche mese fa in seguito al tradimento subito in diretta a tv da Cecilia Rodriguez, il pugliese sta per tornarci nei prossimi giorni per parlare di un argomento altrettanto importante. . . Da un mese a questa parte, infatti, non si discute daltro se non del canna gate che ha colpito lisola dei famosi, da quando Eva Enger ha accusato lex tronista di aver comprato e fumato marijuana in Honduras, tutti i siti e i giornali di gossip non passa giorno che non si occupino di questo tema. . . Se lungherese ha raccontato la sua versione dei fatti sia in trasmissioni tv che sulle riviste scandalistiche, il 29enne ha centelinato le sue ospitate, preferendo defilarsi il più possibile dai media in un momento così delicato per lui. . 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